I lavori plus arrivano in Parlamento nel cantiere di Piazza Cesare Battisti, gli scavi hanno infatti riportato alla luce diversi reperti archeologici, pavimento a mosaico, resti di mura romane e non solo. Lo avevamo promesso durante la conferenza stampa dell'aprile del 2014 e lo abbiamo fatto, ha dichiarato il reatino Ugo Perotti, attivista del Movimento 5 Stelle, ovvero stiamo seguendo passo passo i lavori inerenti alla riqualificazione delle piazze Cesare Battisti e Vittorio Emanuele in corso di esecuzione nell'ambito dei plus piano locale urbano di sviluppo. Nell'interrogazione si chiede al Ministero delle Attività e dei Beni Culturali se non ritenga di dover promuovere ogni azione possibile per valorizzare il patrimonio che sta affiorando e quali iniziative si porteranno avanti per tutelare il rilevante patrimonio archeologico alla luce dei ritrovamenti, continuano dal Movimento 5 Stelle. Non sarà inoltre il caso di promuovere nella zona retina una campagna di scavi per riportare alla luce tutti i resti della civiltà romana sepolti e non ancora ritrovati?